Buongiorno a tutti, sono Ivan del negozio Hi-Fi Music Center Davoli, centro mail per quello che riguarda le percussioni e i piatti per Parma e provincia. Con questi video voglio andare a presentarvi le caratteristiche più importanti di questi fantastici strumenti. Inoltre cercherò di farvi ascoltare le sonorità e le sfumature per aiutarvi a scegliere lo strumento più adatto per le vostre esigenze. Oggi parleremo del Kaon Mail AE SEL CB, ossia la serie Artisan Segheria. Questo Kaon è sicuramente uno strumento adatto per il musicista che cerca delle prestazioni e una qualità di alto livello. È un Kaon adatto per tutti i generi musicali, ovviamente in ambito acustico. Va bene sia per la performance sul palcoscenico che quella nello studio di registrazione o nella stanza prove. Le sue caratteristiche gli permettono di essere adatto in qualsiasi contesto e a qualsiasi livello. Le basse sono sicuramente calde e profonde e ripropongono in modo molto fedele quelle che sono le sonorità della gran cassa della batteria. Ma andiamo a guardare nello specifico quelle che sono le caratteristiche tecniche del prodotto. Il corpo e la parte posteriore del Kaon sono in legno di betulla baltica con nove strati e uno spessore di 12 mm. La superficie battente è in canyon burl. Gli intarsi sul corpo e sul sedile del Kaon sono fatti con un'elegante marchiatura a caldo. Due set da cinque corde preaccordate si estendono all'interno della superficie della tappa battente per dare un suono di rullante mitido e preciso. Gli angoli arrotondati e le tacche per il pollice danno a questo Kaon un comfort e una suonabilità ottimali. Nella parte posteriore possiamo trovare un filtro antipop in prossimità della buca e un anello di rinforzo sulla buca stessa che amplifica le basse frequenze. Il Kaon è prodotto interamente in Spagna. Grazie a tutti e grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla prossima dunque e ricordatevi sempre che dove le parole non arrivano la musica parla.